Mi ricordo, mi ricordo, mi ricordo, mi ricordo dalla sinu è, per tre giorni e per tre notti come se eravamo morti, siamo stati chiusi in un hotel, paranoia e paradiso, tatuaggi sul suo viso, sento dei rumori strani. C'è sia d'altro sul manifesto, c'è di per arrivare a 67 anni, ma nello stesso tempo emanare il direttoriale, atto amministrativo che non passa. E' piaciuto, bene, bene Dario, siamo contenti, bene noi ieri, noi nei giorni passati abbiamo regalato questo... Associazione Radio Maria, via Milano 12, abbiamo i figli che sono precari di scontillio. Quella Don't Dream It's Over che in realtà da noi suona più Tuesday Day. E' arrivato il blackout che accende nuovi elettrizzanti vantaggi, perché acquista un avviene... Dicevo, noi adesso diamo la linea al GR1 delle nove per le ultime notizie, poi apriremo altri capitoli importanti, quello della lotta antimafia, sarà con noi il ministro della giustizia in apertura... Quasi così, perché è l'unica con rilevatore di stanchezza e frenata auto... Fantastico! Federico ha tutti questi dischi un po' latineggianti, reggaetoneggianti... Buongiorno, sono Barbie, il mio orologio è indietro di qua... Le sensazioni del mattino, il vostro inizio di giornata, tra poco ne parleremo ancora, ci sono tante belle notizie tra poco... Anche se da tempo non ti ho più cercato... Al comando della classifica, perché il calendario nelle prossime... Federico Riesi, Elisabetta Sacchi, grazie a Sivore e Girasole, grazie alla Fiore, grazie alla parte mia... Tappo tu benessere, ti basta un clic per fare la macchina chic, mafra... Questa è direzione Firenze e sulla strada di Gran... Le conseguenze rimarranno... ...d'Italia è in carica di okpista appunto, i giallorossi sempre più corti... Allora, detto questo, posso davvero chiudere il nostro giro di Lombardia... Comandante delle forze d'elite dei guardiani della ricordazione ha ricordato... Mentre Mariana Business Daily stima che si siano creati i tre... ...di un buon proseguimento di ascolto... E anche la nostra redazione, ciao ragazzi, grazie alla Tavini... Feel good? Mr. Cotto! Ciao! Scusa... Due le indagini sulla morte della quattordicenne a Roma per la turisma lo scorso 6 novembre... Mertens regalano i tre punti alla squadra di Sarri... ...che invi... ...divertimento... ...organizzazione criminale legata all'Andrangheta... ...finirei... ...umore dalle 7 alle 9 con ricco anticipo con Chiara Riccardo dalle 6... Mi raccomando... Ci saremo! A domana! Ciao! R101 è la... Per capire la ragione di uno strano avvenimento... RGP Radio Città Bollate... Tornata da Antonella Rocchi... Sono ormai quasi nulla... L'onora lo russo... Le scorte di ossigeno che finora poteva... Ebbene, gli americani giovedì saranno riuniti in famiglia per rendere grazie... Non sono... Si potrebbe decidere altre forme, le valuteremo, le valuteremo... Noi siamo ormai... Anche dal presidente... Amici vecchi e nuovi di Cheap Garden, il centro home and garden... Skill... Eh... Su... La... Laura... Ma... Va bene, va bene... Luca... La... 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 Contro l'Atletico... Questa è le breaking news di TG Com 24... Coperto da un'indagine della polizia italiana... Il dirigente... E ancora buongiorno dalla redazione da Daniela Duco... Nella legge di bilancio... Ho finito e andando in ufficio... Nove in punto... Pazzesco... Rapidità, risparmio e qualità italiana... A Cologno-Monsese invia Papa Giovanni ventitresimo cinque... www.puntopuntop... Inevitabile... Lately... Nothing seems to be going by... Tante operatori diversi... E i tuoi viaggi iniziano bene con Trainline... E tutti quelli che non si adeguano al pensiero unico...